Se annaspano sul capitolo natalità, i dati dell'Istat diventano ben più rosei alla voce dei matrimoni. Nel 2016, 9.000 coppie in più sono convolate a nozze, superando la soglia delle 200.000 celebrazioni. Bello è bello, ma la questione rimane a conti fatti se quel per sempre, ripetuto con la fretta dell'amore davanti a tanti invitati, riesca poi a durare. Verona merita un discorso a parte, la fotografia del comune Scaligero presenta infatti una parabola discendente. Dal 1989 al 2016 i matrimoni sono diminuiti del 43,64%, 878 le nozze celebrate nel 2016, di cui ben 513 con rito civile. Dal 2002 infatti i sì eterni, detti in sede civile, sono il doppio di quelli pronunciati all'altare. Al netto del come, promettersi l'eternità rimane un fatto non scontato, ma non mancano gli esempi di chi è riuscito a resistere alle tentazioni del tempo, doppiando traguardi decennali. Sarà il sindaco Sborina il prossimo 2 dicembre, con tanto di brindesi e fotoricordo a Palazzo Barbieri, a celebrare 211 coppie che festeggiano il cinquantesimo, il sessantesimo e persino il settantesimo anniversario dal grande giorno. La cerimonia replicherà sabato 16 dicembre con altre 196 coppie pronte ad osservare la loro innamorata ricorrenza, per un totale di 400 coppie che si tengono ancora per mano.